Ancora una gara casalinga, ancora una gara però in esilio, questa volta non c'erano nemmeno i tifosi ma le porte chiuse, come ci è arrivato? Se vuole che le rispondo con onestà intellettuale, rispondo se poi devo rispondere con sarcasmo, preferisco dribblare questa domanda perché voglio far capire un concetto, io non sono né uno yes ma non ho mai avuto padroni, io ritengo che questo mestiere sia come fare un prete, una vocazione ma prete vero non prete finto, io dico che noi portiamo e siamo orgogliosi di portare questo scudetto che rappresenta una storia secolare di questo club e penso che in godesto momento si vada a mortificare intanto i tifosi, quelli veri, quelli che amano il Modena e si vada ad inficiare oppure ad umiliare chi lavora per questa maglia e chi rappresenta in Italia a livello calcistico chi lavora come il sottoscritto 24 ore al giorno in maniera errata, in maniera buona per l'amor di Dio e quindi non ci sono altre parole, quindi la prego di sorvolare su questa domanda altrimenti potrei fare danni irreparabili Come arriva la squadra all'appuntamento? La squadra arriva bene, la squadra penso che le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti è normale perché poi parlare dopo è sempre facile, noi mi sembra quando ho avuto il piacere di conferire prima della prima interpretazione del campionato ebbi a dire che questa era una squadra che aveva bisogno di tempo è normale, erano giocatori che magari non avevano consistenza organica in quanto erano ai margini delle loro squadre quindi è una squadra che però fino a quando regge la consistenza organica penso che mi sia consentito anche lezioni di calcio sia a Vicenza e soprattutto nella fase centrale e diciamo anche per lunghi tratti del primo tempo anche a Reggio Emilia Segnali positivi si sono visti mister, ma restano le tre sconfitte consecutive? Senza ombra di dubbio Come lo si apponta? No, è giustissimo, sono tutte chiacchiere, sono d'accordo, nel calcio esiste soltanto una cosa, il risultato, il resto è tutta riaffritta però è normale che bisogna vedere come è stata costruita questa squadra, tante situazioni che noi siamo a conoscenza noi sappiamo che sarà un campionato difficilissimo, però pian piano col lavoro è normale che domani sarà determinante fare risultato avremmo voluto quando meno l'apporto dei tifosi, della nostra gente, di quella gente a cui noi dobbiamo tantissimo a quella gente che era a Reggio Emilia, a quella gente che ci ha spinto verso una prestazione importantissima e per quella gente che noi volevamo fare un risultato importantissimo non solo andiamo a giocare di nuovo fuori casa e quindi umiliati, ma addirittura questa volta sono riusciti a farci giocare anche a porte chiuse Che partita sarà? Ma sarà una partita difficilissima, il peggior avversario, in quanto il nome a volte può far sì che nella mente di un giocatore ecco magari giochi contro il Padova, il nome giochi contro il Modena, il nome invece questa è una squadra che non ha un nome altisonante ma ha dato tre gol al Padova e ha vinto su un campo di una delle candidate numero uno per la vittoria finale, il Feral Piselò è vero che ha perso con l'Albino Leffe, ma abbiamo studiato la gara e se finisce 10-1 per il Renate 10-1 sto esagerando, ma 3-4-1 probabilmente non avrebbero rubato nulla è una squadra importante, è una squadra che vive di entusiasmo però noi domani dobbiamo fare risultato come diceva prima lei quindi vorrei essere più brutto o meno bello, però vincere Giocatore a disposizione, tutti? C'è qualche acciacco? Sono da valutare costantemente le condizioni degli ultimi arrivati, soprattutto di Garrano di qualche altro, Minarini ho paura che insieme a Solini non ce la facciano quindi tutti e due ad alto rischio addirittura di convocazione per il resto ci sono tutti Questo è un campionato che lei conosce molto bene dopo tre giornate si sono già definiti dei valori, delle cose, è troppo presto? È troppo presto, sicuramente i valori li si conosce poi bisogna vedere chi ha spinto di più, non è nel caso del Modena perché su 11 giocatori che vanno in campo 7 non hanno fatto preparazione con noi addirittura 8 in alcuni francienti considerando Manfredini che comunque è un giocatore statico non è un giocatore di movimento. È normale, c'è magari chi ha spinto di più, chi ha lavorato meno quindi chi è più fresco fisicamente o più pulito che non ci sono stati carichi di lavoro notevoli se non passano perlomeno dieci partite è dura insomma dare dei giudizi Ministro, la riporto sui problemi societari, c'è una scadenza quella degli stipendi dei giocatori? Ma la rispondo con schiettezza illimitata, stamattina sul mio conto c'è lo stipendio di giugno quindi sono stati ottemperati tutti gli stipendi ai calciatori quindi di che se ne dica con tante difficoltà la proprietà perché bisogna dire le realtà ottemperata ad una scadenza che sembrava difficile da poter ottemperare Questo è una bella cosa, questa è una bella cosa, sarò vicino alla squadra sicuramente chi mi ha sostituito mi ha sostituito in maniera importantissima però sapete benissimo che un allenatore in panchina può incidere in maniera diversa